... fuori Vasquez che poi rimette in gioco... ... da Lumbunson va della... ... prova di vicino Stratman... ... due... ... due... ... due... ... due... ... due... ... come... ... spostarsi anche su più parti del campo per... ... dare una mano a Girardi... ... due... ... per inviare l'uomo spagnolo che... ... tanno diversi metri dalla propria area... ... prova con un passaggio coraccioso... ... Gudmundsson... ... due... ... superiorità sulla sinistra... ... Spence però la raddetta... ... due... ... ricorda a Chaka... ... Gudmundsson... ... sua partenza... ... va là dentro... ... sbonda diretti... ... scossa... ... va bene... ...